Ciao ragazze, bentornate in questo nuovo video! Oggi, come vedete, sono struccata perché voglio provare con voi il nuovo fondotinta di Mulac che mi è arrivato proprio stamattina. Se mi vedete un po' con i capelli tutti sfatti è perché dopo voglio girare un video in cui vi mostro come sistemare i capelli arruffati in pochi minuti. Quindi se siete interessati anche a quest'altro video, mi raccomando, rimanete sintonizzate sul mio canale e vi ricordo come sempre di seguirmi anche su Instagram dove mi trovate come Rossi Makeup e di supportarmi mettendo un mi piace al video. Allora, torniamo al fondotinta. Il fondotinta Slay the Game è il nuovo fondotinta di Mulac, per chi non lo conoscesse, non so se esiste qualcuno che non lo conosca, comunque, è il nuovo brand di una famosa youtuber, la Sindina, che esce con tutti questi prodotti di make-up, devo dire, abbastanza buoni, almeno per tutti i prodotti che ho provato fino adesso, del brand che mi sono piaciuti molto, quindi non ho resistito e siccome è un brand che amo molto, ho deciso di acquistarlo subito e provarlo senza vedere alcuna recensione, perché devo dire che è veramente un brand di cui mi fido, non so, penso che Sindy sappia il fatto suo per quanto riguarda la scelta dei prodotti giusti, anche all'interno della sua linea. Comunque, ritorniamo al noi. Il fondotinta è un fondotinta in stick, la mia colorazione, o almeno quella che ho preso, spero sia giusta, è Norma J, la 03, è una colorazione neutra. Penso che la prima e la seconda siano un po' troppo chiare, perché la prima è chiarissima, è una rosata e la seconda è chiara, però gialla, io non sono più che altro che vira al rosato, neutro rosato, quindi ho deciso di prendere questa tre. E guardate che bello che è il packaging, come tutti i suoi prodotti, opaco da una parte e dall'altra con questa decorazione lucida, damascata, non so se dice così. E poi, eccolo qui, eccolo qui, il fondotinta in stick. Tra l'altro è un po' buonissimo, come se fosse di lecca a lecca, ai frutti di bosco alla fragola, non lo so, è veramente buono. E ora lo proviamo sul viso, è un fondotinta in stick, indicato per le pelli normali o grasse, usato puro, altrimenti per le pelli secche, usato con un olio che vendono sempre sul canale. Io sinceramente non l'ho comprato, perché non mi fido di mettere oli sulla mia pelle, che come vedete qua può essere un brucolo, ha tendenza a acneica, e ho paura sempre che un olio possa farmi spuntare altri brucoletti. Magari poi non lo fa, però il miglior di massimo in genere, tutti i prodotti comunque ricchi di oli, purtroppo a me li fanno spuntare. E cosa fondamentale che non vi ho detto, il prodotto è stick ed è naturale, quindi fatto al 100% con ingredienti naturali, quindi sono molto curiosa della sua performance. Allora, sto usando solo la luce naturale, spero che si veda bene, perché altrimenti se devo accendere quella non naturale è troppo finta. Vediamo un po' com'è con questa luce naturale. Iniziamo subito con la stesura. Lo applico direttamente un po' sul viso, così. E poi lei ha creato la sua sfugnetta, però non era disponibile quando ho acquistato il fondotinta, cioè qualche giorno fa, ma io uso la mia Beauty Blender, non è proprio Beauty Blender, questa è una versione economica di H&M, che si trova da H&M a 2-3 euro. e con cui devo dire che mi trovo abbastanza bene. L'ho bagnata e ha asciugato un pochino, adesso inizio a fondere il fondotinta. L'ho bagnata e ha asciugato un pochino, adesso inizio a 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 un pochino. L'ho bagnata e ha asciugato un pochino, adesso inizio a 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 un pochino. L'ho bagnata e ha asciugato un pochino, adesso inizio a un pochino. Ecco qui il confronto tra la parte destra del viso, stuccata, e quella a sinistra truccata. Beh, devo dire che inizio sembra proprio bello. Sicuramente questi fondamentali stick regno tanto nelle foto. E non sembra neanche che si veda moltissimo. Non so in realtà quanto sia a eye coverage, come dice. Perché comunque la pelle rimane trasparente sotto, ha una copertura mascherone. Però sinceramente io lo preferisco così perché non necessito per la mia pelle di copertura altissime. e mi piace comunque che la pelle abbia un aspetto umano. Per esempio col fondotinta Mac, lo studio finish, non mi sono trovata per niente bene, non mi è piaciuto. A parte che mi ha fatto venire un sacco di brufoli. Non vedevo la pelle... Non mi piaceva come effetto, mi sembrava troppo finito. Questa è la differenza con le luci artificiali. Sembra un po' più chiaro rispetto alla mia pelle. E ora vi faccio quest'altra parte del viso e la faccio con la ring light. Quindi con la luce artificiale. Allora, metto un po' di fondo. Faccio così. È un profumo veramente buono. Devo dire che Simili sceglie bene anche i suoi profumi. Perché anche il prodotto, l'olio per capelli, sempre è della sua linea. Ha un profumo buonissimo. Mi piace anche quello. Un po' più classico, però è sempre buono. Questo è un po' di ciupo ciupo. Naturalmente la stesura con la sfignetta è un po' più leggera rispetto a che magari stenderlo con un pennello. Però secondo me è sempre la più ottimale. Mi piace tanto. Ed ecco qua il risultato del fondotinta senza ancora fissarlo con le luci artificiali. Ora ritorniamo alle luci naturali. E qui abbiamo la luce naturale. E visto che ho anche la cipria, ho comprato anche la cipria della stessa marca. Ero curiosissima di provare. Corrego un po' le occhiaie. E questo profoletto qua ancora un po' si vede purtroppo, però è una macchia allucinante. Corrego un po' le occhiaie. E vi faccio vedere anche come si applica la cipria. Adesso continuiamo, andiamo a mettere la cipria. La cipria è una cipria in polvere bianca, in polvere libera. Sono stata molto curiosa di provarla perché c'è una cipria in polvere libera che mi faccia un effetto comunque molto naturale. Avete presente le ciprie molto pesanti che si vedono e mettono in risalto tutti i pori del viso, tutto. Ecco, quelle non mi piacciono per niente. Io sto cercando una cipria proprio leggerissima, che fissi, però senza mettere in risalto le zone secche. Soprattutto per quanto riguarda le occhiaie. Il packaging è così. Si apre, c'è lo specchietto, c'è un bagufolino qui, una spugnetta. E poi qua ci sono i buchini. Effettivamente, visto in un video che è come si fa a prendere questa cipria, essendo che il coperchio è incorporato, secondo me è un po' scomodo. Bisogna fare in modo che la cipria non fuoriesca troppo da questi buchini. Oddio, ecco. Mi sono buttata tutta addosso. Come non detto. Quindi siamo bene. Anche questo è un po' fumo. Io non so cosa. Comunque la prendiamo. Già mi sono... Guardate. Vabbè. Proviamo a fare il baking, come dicono loro. E' un po' scomodo l'applicatore, perché sarebbe meglio avere... versarlo in un coperchio a parte, solo che qua hanno deciso di mettere il... non è stata una grande idea, secondo me. Perché questa soluzione va bene, secondo me, per le cipre compatte che non hanno bisogno di fuoriuscire dai buchini, ma sono già compatte e si applicano così e quindi serve lo specchio. Ma con questo è un po' difficile, perché è meglio avere un coperchio che si stacca da usare come contenitore in cui infingere il pennello. Non so se mi sono spiegata. E questo è il risultato. Adesso vado a truccarmi, faccio qualche altra cosina, giro un altro video. E dopo vi dico... Ho metto un'impressione dopo che passa un po' di tempo. E eccomi ragazze, tornata. Mi sono truccata, ho fatto un video sui capelli per averli così lisci in pochissimi minuti, quando siete di fretta, andatelo poi a vedere quando esce. E cosa dire del fondotinta? Allora, non so perché, se mi compare solo nello schermetto lì, o proprio nel video sembro più bianca, però in realtà nella vita reale non sono bianca così. Non so se questo effetto è dovuto anche alla cipria Mulac, Mulac, alla cipria Sleide Deo, che è la cipria in polvere bianca e magari tende a riflettere la luce, quindi nei video e nelle foto non è il massimo, poi ovviamente in combo con la ring light, la luce bianca che è questo per i video, e quindi sembro proprio bianchissima, però ad arrivo assolutamente no. E dopo aver messo la cipria, l'effetto è leggermente comunque come il nostro del fondotinta, questa è una cosa che mi piace molto. Solo sul naso si vede un pochino qualche pellicina, e un po' qua ai lati lo sento un po' più secco, però invece nel resto del viso è ottimo, come prima impressione, e quindi in queste zone forse bisognerebbe mettere quei bollettoli che consiglia Singly, ma forse magari lo comprerò, però fatemi sapere se ve lo usate, se vi provoca brufoletti o no. Nelle occhiaie all'inizio mi sembravano più secche, appena messa la cipria, però adesso devo dire che si sono stabilizzate, quindi non è male. E per il momento devo dire che il risultato mi piace, soprattutto in foto, a parte questo effetto bianco, vedo che il risultato è molto bello, però anche dal vivo comunque rimane coprente, però abbastanza naturale. Secondo me non è eye coverage, come dicono, però magari lo devo provare con qualche altro metodo, magari se soppico in un pennello. Comunque a me piace che rimanga un po' trasparente, che si vede la pelle effetto umana, non effetto bambola, tipo orcellana, che non è poi così realistico. E niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate del fondotinta, se l'avete provato e come vi sembra questo qui. Iscrivetevi al canale, lasciatemi un like, aggiungetemi su Instagram, dove mi trovate come Rossi Makeup, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mua!